cari amici vi aspetto il 5 settembre alle ore 21 e 30 a mantova presso l'arena bike in campo canoa per una serata musicale insieme una data speciale del mio summer tour 2020 trascorreremo una serata di musica e di parole sarà presente con me anche luna vincenti vi aspetto ci vediamo a mantova il 5 settembre ciao